Bella ragazzi bentornati qui sul canale del Granas e stiamo tornando oggi con un nuovo video e da quello che potete vedere il video sarà esattamente questo Ma andò a fanculo tutti Ciao Vabbè e niente allora oggi è una nuova challenge che abbiamo appunto pensato di portarvi e si tratta nel... Nel usare le mani dell'altra persona come proprie, cioè è strana è... come si chiamava? E... vabbè è figo però è abbastanza strano perché mi vedo... ste mani muove ma non so le mie Praticamente consiglierei questo la challenge di oggi fare qualcosa facendo... non so come dirlo fare qualcosa... far fare qualcosa all'altro usando le mani proprie Si chiama Nohens Challenge e ce l'ha consigliato qualcuno e... niente consiste nel fare qualcosa con le mani Nostre Non proprio nostre, cioè nostre le sue Per esempio lui comincerà Sarà lui il primo Vabbè allora ora chiameremo mamma Ehm... non... rubrica Ovviamente non ci vedi E rubrica E stai sul calendario Ma... non ce l'ho all'orecchio Non te lo dico io non esisto Ho capito ma... ehm... non riesco a mettere la rubrica Chiudiamo il cellulare e buttiamolo sul letto Non prendete l'opera Ah 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 came Già facendo questo Ehm... ho... ho sede e voglio bere Quindi... toccala Non ci arrivo Il piede Ok Abbiamo la bottiglia Mettiamo il tappo qua se non casca Guarda se fa il danno Oddio mi fa paura Oddio Non sta uscendo Sta uscendo Basta basta grazie Grazie molto gentile E' cascato per terra quindi soffio Sul tappo Positiamo l'acqua Adesso mi dovrebbe fare caccola Come sto a parlare Caccola No cazzo Cioè scusa Ah e la prossima cosa sarà Dover preparare un pane con la modella per che ho fame Dopo la sede c'è stata la fame ovviamente Buono il pane con la modella Allora appoggiiamo questa qua con un coltello Con un coglione Ok Eh Sì sto prendendo il pane dal pane in cassetta Molino bianco è buonissimo E il pane si per terra sti cazzi Tanto Non so Devi stare un po' attento però Devo stare un po' attento Ah god Ok Allora prendiamo Con la modella Infiliamo bene il coltello Ci siamo Ci siamo poi la modella Ma tu non vedi No Cazzo E spalmiamola E spalmiamola La sto spalmando molto bene E' buono E' buono E' buono E' buono E' buono con la modella E' molto buono Adesso tocca a me Ciao a tutti ragazzi Io sono Darryl E questo è il cane di granas Adesso farò una sfida Che toccherà a me Ecco appunto Proprio a me Me è medesimo Io Io Darryl E niente però non ci vedo bene Mi devo mettere gli occhiali Avrò gli occhiali E me li sto E me li metto Non ciecandomi un occhio Ovviamente Ok E Io Come tutte le mattine Mi levo le scarpe Mi levo le scarpe Come tutte le mattine No no Ecco Mi levo le scarpe Mi levo Perché giustamente Vado a dormire con le scarpe E poi me le levo Poi vado in bagno E mi pettino Uno Due Do 100 colpi di spazzola Tre Quattro Cinque Poi così dietro Pure Sette Otto Attenti a non graffiarvi Perché se fate forte Vi rimangono anche Infiliati i capelli Perciò Deve essere Attenti Che non Il taglio Vi vada Così Perché poi Invece Li mettiamo correttamente Perché poi Per sbatterlo Ovviamente sbattiamo Per togliere i peli In eccesso E Argomentando Passo Non mi capita mai Di quando gioco Però mi do un attimo Mettere a posto gli occhiali Perché No no toglierli Mettere a posto Mi metto un po' Mi metto un po' Più su Ecco perché E' un po' difficile Ultimamente fare queste Ecco Ecco adesso Così Scusate ma ci vuole Un po' più di tempo Devo un attimo Raccogliere il pettine Perché 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 Giocandoci Può cadere E mi mando i capelli All'indietro adesso Questo è un tutorial Di make up E Vedi Vedete Così si fa Ecco Ecco Si mandano indietro E Siete pronti Per smerciare droga Ecco Alla Pablo Escobar Però Non contento Cosa faccio Apro un ombrello Dentro casa Apro un ombrello Perché dentro casa A volte succede Che i vicini Si fanno la doccia E Mando La La spiga A A farsi fottere E Mi continua a pettinare Sotto l'ombrello Perché giustamente Chi non si pettina Sotto l'ombrello Ok Poi si chiude l'ombrello Un attimo Perché è una cosa che ci vuole Concentrazione Ecco Vabbè Buttare il pettine E così si chiude l'ombrello Molto semplicemente E E E quindi Molto semplice L'ombrello Lo poso Per terra E Ok Fonsi Sono Fonsi I want to do I want to do Sunday Monday Happy days Non so assolutamente adesso Quali capelli Che cosa di Quali capelli ho Però questi Ok mi danno un po' Fassini Quindi voglio Mi ritrovo Un attimo Ecco Lo ributto Per terra Magari Perché se no Si graffiano E li metto sul tavolo Questo è il balsamo Quando metto il balsamo No Ecco E Dopo essersi pettinato Ha migratto Sotto l'alimento Perché Ovviamente Può prudere la barba E quindi Niente Me stiro No mi stiro Mi stiro Detto questo ragazzi Vi saluto E E niente Vorrei far tornare appunto Xenic Qui vicino a me E quindi È tornato qui vicino Yo Questa era la No Hands Challenge L'abbiamo vista Ce l'hanno consigliate molti di voi Sulla pagina Facebook Yes E Quindi andate sulla pagina Facebook Per consigliarci altre sfide Che vorreste vedere Mettete un bel mi piace Un bel commentino Ecco Un bel punto Ha detto Lui Quindi niente Lasciate 3500 like Se questo video vi è piaciuto E noi ci becchiamo Al prossimo video Bella Ciao We're back to life 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 Grazie a tutti.